Digital Divide e accessibilità digitale. Temi caldi al centro del convegno organizzato dall'Unione Italiana Cecchi del Piemonte al Castello del Valentino di Torino. Ad aprire il dibattito l'Avvocato Franco Lepore, Presidente dell'Unione Cecchi del Piemonte. Avvocato Lepore, in apertura lei ha fatto il punto della situazione. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità abbiamo deciso di organizzare un convegno altamente innovativo. Oggi l'accessibilità non deve essere intesa solo da un punto di vista fisico. L'accessibilità riguarda anche il web inteso in tutte le sue forme. Teniamo presente che oggi attraverso internet le persone possono richiedere dei servizi, acquistare dei prodotti, leggere delle notizie. Ecco, sono cose che a causa dell'inaccessibilità di siti internet e applicazioni mobili sono operazioni difficoltose per quanto riguarda le persone con disabilità. Quindi abbiamo deciso di illustrare la normativa nazionale e internazionale in tema di accessibilità digitale. Abbiamo illustrato le linee guida per rendere accessibili gli strumenti informatici e abbiamo dimostrato come le tecnologie assistive possono consentire alle persone con disabilità visiva di accedere in piena autonomia ai siti internet e alle applicazioni mobili. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo convegno per ricordare che l'accessibilità digitale non deve essere considerata solo come una semplice concessione, ma è un sacrosanto diritto sancito dalla legge. Anche la Regione Piemonte con il suo assessore al welfare Maurizio Marrone ha voluto ribadire la propria attenzione nei confronti delle tematiche trattate in questo convegno. Proprio così, soprattutto perché il tema, quello dell'accessibilità digitale, di nostro assoluto interesse, proprio perché la nostra giunta, quella del Presidente Cirio, ritiene che le nuove tecnologie devono essere strumenti per aumentare l'accessibilità e non invece aggiungere le barriere. Per questa ragione intendiamo attingere al Fondo Regionale Antidiscriminazione proprio per dare fiducia a quelle proposte di ammodernamento che arriveranno anche e soprattutto dall'Unione Italiana c'è chi può vedenti, proprio per eliminare questo digital divide e garantire piena accessibilità, perché solo l'accessibilità uguale per tutti, a prescindere dalle disabilità sensoriali, può essere un obiettivo accettabile di inclusione nella nostra società contemporanea. Sono Aide Longo, sono avvocata e disability manager. Ho fondato l'Ex for All, che è uno studio legale specializzato nei diritti di inclusione delle persone con disabilità, nonché la Federazione Disability Management, che riunisce tutti i professionisti che operano come disability manager. Il mio intervento si è focalizzato su quello che è il panorama normativo che riguarda l'accessibilità digitale oggi in Italia e in Europa, ma anche a livello internazionale, partendo dalla Convenzione ONU. Abbiamo visto insieme le normative che già ci sono e tutti gli impatti e le novità che invece ci attendono da normative che o stanno entrando in vigore proprio adesso, oppure ancora necessitano di qualche attuazione, ma che presto vedremo applicarsi anche nel nostro Paese. Il tema dell'accessibilità digitale a livello normativo sta vivendo un momento di grandissimo fervore, grandissimo sviluppo, oserei dire grandissima rivoluzione. Di questo io personalmente non posso che essere contenta perché finora è rimasto un po' sottaciuto. Invece anche il mondo del digitale deve essere accessibile, l'accessibilità deve riguardare tutta una serie di prodotti e servizi e deve poter garantire a tutte le persone con disabilità di accedere a questi spazi che oggi come oggi sono sempre più vitali data la digitalizzazione che sta investendo tutto il mondo. Guido Saracco, magnifico rettore del Politecnico di Torino, ha parlato nella sua introduzione delle criticità legate al digital divide, criticità che diventano ancora più ampie per le persone affette da disabilità. È chiaro che la rivoluzione digitale ha portato a cambiare il modo con cui noi produciamo e il modo con cui eroghiamo i servizi e sono venute al pettine le retratezze del nostro sistema Italia, è un sistema che non ha investito in quest'ambito come gli altri paesi più sviluppati al mondo e questo lo paghiamo dagli anni 90 in poi con una frenata della nostra economia e ovviamente a farne le spese sono gli ultimi quelli che hanno meno facilità se vogliamo nell'accesso al digitale. Da qui una importante parte del PNRR è dedicata appunto alla infrastrutturazione del digitale con l'arrivo della banda larga, con la gestione dei dati da parte dello Stato anche per erogare dei migliori servizi. È ovvio che la popolazione degli ipovedenti ha una barriera in più da superare anche se consideriamo il fatto che l'interfaccia tipica verso il mondo digitale avviene attraverso uno schermo e avviene attraverso un contatto guidato dalla vista delle persone non ipovedenti. Quindi dobbiamo fare questo passo in più per riuscire a coinvolgere anche la popolazione degli ipovedenti in questo frenetico sviluppo che può essere uno sviluppo in cui più consapevolmente il nostro Stato può coinvolgere tutta la popolazione e offrire servizi in modo più adeguato di oggi per ricucire le disuguaglianze e in ultima analisi anche portare la popolazione ipovedente a fruire di tutto questo. Quando parliamo di accessibilità digitale pensiamo anche ai siti gestiti dalla pubblica amministrazione. Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha un ruolo importante in tal senso. Sì, buongiorno, sono Claudio Celeghin, responsabile del servizio accessibilità e usabilità dei servizi digitali. Molto interessante questo convegno. Agid per l'accessibilità si spende dal lontano 2004 quando ancora si chiamava CNIPA ed è stato il soggetto che ha scritto insieme al Ministro la normativa sull'accessibilità e dal 2004 diffondiamo e regoliamo il tema dell'accessibilità in ambito ICT con la redazione anche di circolari, di tutto quello che è l'assetto normativo per quanto riguarda appunto il tema dell'accessibilità e anche con delle linee guida importanti che sono state recentemente emanate rispondendo anche a quello che era il tema dell'accessibilità derivante dalla adozione delle direttive europee su questo tema. Facciamo un'importante attività di monitoraggio dei siti web e delle app delle amministrazioni pubbliche e mettiamo però anche a disposizione delle risorse non soltanto quindi un'attività di regolamentazione per quanto riguarda questo aspetto ma anche di supporto alle amministrazioni pubbliche. Un esempio molto pratico è la messa a disposizione di template e di strumenti di progettazione per comuni e scuole, strumenti accessibili nel senso che sono template di cui abbiamo curato anche gli aspetti relativi all'accessibilità e poi strumenti finanziari come ad esempio un intervento del PNRR che dà alle amministrazioni pubbliche ingenti finanziamenti per migliorare i servizi online, la cultura dell'accessibilità e per l'acquisizione, l'acquisto di tecnologie assistive presso la pubblica amministrazione. E poi in ultimo attività importante è l'attività di vigilanza che sta seguendo Agid, di vigilanza sui soggetti pubblici e sui soggetti privati affinché adottino e implementino correttamente le indicazioni sull'accessibilità che sono state emanate tra direttive, leggi nazionali, normativi nazionali e appunto le linee guida redate da Agid. Sono Paolo Bruna, project manager all'interno dell'area UX e digital design di CSI Piemonte. Oggi abbiamo l'occasione di incontrarci grazie all'invito dell'Unione Italiana Ciechi, sezione piemontese, e a discutere di accessibilità digitale. In CSI, quindi nel Consorzio per il Sistema Informativo, si parla e si affronta il tema dell'accessibilità digitale dal 2004, quando nacque il laboratorio di accessibilità e usabilità che fu ai tempi uno dei primi buoni esempi nel portare l'esigente del cittadino e della persona all'interno dei progetti digitali. La cosa che andiamo a presentare anche oggi, importante, è la proposta di collaborazione che UIC ha accettato, che è stata lanciata a inizio estate dal CSI, che ha l'obiettivo di, in qualche modo, aprirsi al territorio, poter dialogare con le associazioni che si occupano di disabilità e poter realmente, in qualche modo, toccare con mano l'accessibilità reale e non solo quella, in qualche modo, valutata in laboratorio che viviamo noi quotidianamente. Sarà l'occasione di avere questo tavolo fondamentalmente sempre aperto a tutte le associazioni che vorranno aggiungersi, di confronto tecnico, per cui non si andrà a cadere proprio sul pratico, per potersi confrontare su soluzioni tecniche, più o meno pratiche, per migliorare i servizi che il CSI realizza. All'incontro di oggi ha partecipato anche Cristina Mussinelli, segretario generale della Fondazione LIA. Grazie mille. Noi come Fondazione LIA siamo nati nel 2014, siamo un'organizzazione no profit creata dall'Associazione Italiana Editori in collaborazione con l'Unione Italiana Cechi, quindi sicuramente per noi questo è un momento importante che ribadisce la collaborazione finalizzata a fare in modo che le pubblicazioni digitali siano sempre più accessibili per tutti. Noi lavoriamo all'interno dei principali working group internazionali che si occupano di accessibilità e soprattutto lavoriamo con gli editori perché le pubblicazioni digitali nascano accessibili fin dalla loro prima pubblicazione e vengano poi distribuite nei canali tradizionali, quindi sulle librerie online, nelle piattaforme degli editori e ovunque un utente possa selezionarle e leggerle senza difficoltà.